Dopo il secondo posto la settimana scorsa all'Aron Classic UK, Patrick Johnson ha vinto la Yamamoto Cup France, direi meritatamente. Non si è presentato James Hollingshead, quindi se qualcuno sa il motivo per cui non c'era James lo scriva. Secondo, Mark Hector, terzo, Jamie Christian e gli altri sinceramente non so chi siano. Direi che il livello si è abbassato rispetto all'Arnold UK della settimana scorsa, chiaramente non c'era Andrew Jack, non c'era James Hollingshead che ha fatto davvero una bella figura in Inghilterra domenica scorsa. E sono curioso davvero di sapere per quale motivo non si sia presentato, perché io penso che avrebbe vinto ieri. Comunque, direi che la vittoria di Patrick è meritata, era il più definito, più definito sicuramente di Mark Hector. Poi la gente dirà che Mark Hector è più estetico quello che è, però chiaramente stiamo sempre parlando di bodybuilding, non di una gara di bellezza estetica. Però io direi che Patrick era più definito, più granitico, un po' più sicuro nel posing, un po' più bello da vedere, ha il colpo d'occhio per dei canoni di bodybuilding open, quindi non di classic fisica. Chiaramente Mark Hector ha i suoi punti forti, la vita stretta, le spalle larghe, anche lui ha un buon colpo d'occhio, però secondo me c'è da lavorare molto in generale, sicuramente sulla definizione in primis. Comunque è sempre un secondo posto, un buon risultato e sicuramente lo vedremo in futuro. Mi è piaciuto abbastanza Jamie Christian, però il suo problema è l'altezza, cioè davvero troppo alto per essere un bodybuilder, ma nonostante ciò riesce a mantenere delle buone proporzioni, soprattutto per quanto riguarda le gambe, è abbastanza imponente. Secondo me è un bodybuilder che potrebbe fare benino rispetto ad altri giganti tipo un Morgan Hust, che non è così proporzionato. Comunque va da sé che Patrick si sia giudicato il biglietto per andare al Mr. Olimpia, secondo me quest'anno c'è addirittura troppa gente al Mr. Olimpia, mi sembra davvero eccessivo e non capisco perché ci siano tutte queste gare, cioè il motivo immagino di saperlo, il motivo sono i soldi ovviamente, perché ogni gara porta soldi, ogni bodybuilder che gareggia una gara porta soldi, eccetera eccetera eccetera, però chiaramente io non penso che un Mr. Olimpia con, a quanti siamo, mi pare 26 bodybuilder, se non di più sia così entusiasmante. Poi chiaramente non gareggeranno tutti quelli che si sono qualificati, ovviamente, però io sono dell'idea che un contest di bodybuilding non debba superare 15, 16, massimo 20 partecipanti, cioè siamo già davvero a troppi e soprattutto il Mr. Olimpia dovrebbe avere un livello qualitativo più alto per quanto riguarda i partecipanti. Posso capire le gare minori dove c'è un po' di tutto, ci sono un po' cani e porci, però secondo me il Mr. Olimpia si dovrebbe garantire una certa qualità nei bodybuilder e non sto dicendo che tutti quelli che si sono qualificati facciano schifo o che non vadano bene, però c'è davvero troppa gente secondo me, comunque questo è un mio parere personale. Dulcis in fundo parliamo un po' del ritorno di Lionel Baiechi, come lo chiamano gli Stati Uniti, poi immagino si chiami Lionel Baiechi in francese, davvero umile condizione da guest posing. È un bodybuilder che ha buttato la sua carriera nel cesso perché sarebbe potuto essere davvero un grande protagonista del bodybuilding di questi ultimi anni e l'avevo nominato nel video che si chiama talenti sprecati nel bodybuilding degli ultimi dieci anni perché sicuramente lui è uno tra i primi ad essere un talento sprecato, davvero. Se avrebbe potuto diventare qualcosa di più, avrebbe potuto fare qualcosa di più, però così non è stato. Comunque, Patrick Johnson stacca il biglietto per il Mr. Olimpia. Buona domenica. Buona. Buona domenica.